Un agguato in spiaggia alle 10.30 di mattina, i colpi di pistola calibro 7.65 raggiungono un trentotenne albanese con precedenti, chi spara è un sicario travestito da runner, l'omicidio a pochi passi dallo stabilimento, bora bora, torvaianica tra i bagnanti terrorizzati. Per gli investigatori pochi dubbi, un regolamento di conti legato allo spaccio di droga e poi nelle ultime settimane due incendi devastanti su cui vengono aperte inchieste e una notte di fine agosto ad Ardea va a fuoco un deposito di pneumatici distrutti, 8 capannoni, 10 giorni prima altre colonne di fumo denso ad Aprilia, nella zona industriale le fiamme inceneriscono il centro rifiuti Laos. Roghi dolosi, omicidi, spaccio, nuovi equilibri della criminalità organizzata e occupazioni abusive in un territorio che conta oltre 200.000 abitanti e che racchiude 4 comuni, Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, il litorale sud di Roma. Ed è proprio qui a Pomezia che per accendere un faro è stato convocato per la prima volta il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sono stati focalizzati alcuni problemi prioritari d'accordo con i sindaci che portano il contributo di conoscenza del territorio, ci rivedremo breve per analizzare nel dettaglio questi problemi per fare in modo che alla già proficuazione svolta dalla Polizia Giudiziaria ci possa essere anche un adeguato sistema di prevenzione di questi problemi. L'obiettivo adesso diventa monitorare e contrastare le attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio. La criminalità organizzata trae la sua linfa anche da quelle che sono le situazioni di microcriminalità, ecco perché con il prefetto abbiamo avviato oggi un metodo lavorativo di andare a lavorare puntualmente su quelle che possono essere situazioni all'interno dei diversi comuni.